Con l'ufficializzazione della candidatura del dottor Pasquale Drago, magistrato in pensione, alla guida del centro-sinistra di Molfetta, si sta completando il quadro dei competitori in vista delle imminenti elezioni comunali. Tale candidatura era in aria da tempo e, come avemmo modo di scrivere, la sensazione era che il dottor Drago, prima di sciogliere la riserva, volesse verificare la consistenza dell'esercito. Evidentemente deve essere rimasto soddisfatto ed ha deciso di correre alla guida di una coalizione composta dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, dalle civiche CON, in cui è confluito il movimento di Pasquale Mancini, Rinascere, che raccoglie Spaccavento e un gruppo vicino al compianto Guglielmo Minervini e Senso Civico, lista promossa da Annalisa Altomare e Lilino di Gioia. A queste potrebbe aggiungersi la lista del sindaco. Oltre a Drago, al momento sicuramente in campo il sindaco uscente Tommaso Minervini, alla guida di una coalizione di liste civiche, in una nota fornisce il lungo elenco di consiglieri comunali e assessori uscenti che si sono impegnati a sostenerlo, come Pino Amato e la mai senatrice Carmela Minuto. Così come componenti delle partecipate ed altri referenti locali, tra i quali Spicca Saverio Tammacco, consigliere regionale senza fissa di Mora, recentemente ripassato dal centro-destra al centro-sinistra, e che Minervini auspica non si sposti nuovamente almeno sino alle elezioni. La candidatura di Drago non è stata condivisa dalla sinistra molfettese. Sinistra italiana intende proporre l'avvocato Bipi Maralfa, nome che però sembra non convinca neanche di Fondazione Comunista, che correrebbe con un proprio candidato. Contenti loro. Resta da definire quello di centro-destra, tutto lascia pensare che sarà l'avvocato Pietro Mastropasqua. Si attende di fatto solo l'ufficializzazione. Mastropasqua, infatti, oltre al movimento obiettivo Molfetta, avrebbe il sostegno di Fratelli d'Italia ed anche di Forza Italia, ora che sembrano superati i dubbi sulla titolarità del simbolo. Mastropasqua avrebbe anche il sostegno del senatore Antonio Azzollini in una competizione che si preannuncia piuttosto accesa, sia per la notevole diversità nella storia politica e personale dei candidati, sia per il momento molto particolare vissuto dalla città in questi ultimi anni.